Saluti calorosi a tutti voi, la nostra meravigliosa community di fedeli e appassionati seguaci. È sempre un piacere rivolgermi a voi e spero davvero che le ultime giornate vi abbiano portato soddisfazioni, sorrisi e momenti di serenità. In un mondo in costante movimento e cambiamento, è importante ritagliarsi dei momenti per sé, per riflettere, rilassarsi e, perché no, godersi i propri show preferiti. Prima di proseguire vorrei davvero sapere di più su come avete trascorso la vostra settimana. Quali sono state le vostre piccole vittorie quotidiane? Avete scoperto qualcosa di nuovo o avete intrapreso qualche avventura inaspettata? Ogni vostra esperienza è un prezioso racconto che arricchisce questa community. Passando alla puntata di ieri sera, devo dire che è stato un vero e proprio roller coaster di emozioni. Gli intrecci, le rivelazioni e le dinamiche tra i personaggi ci hanno tenuti tutti incollati allo schermo e, come sempre, subito dopo la messa in onda, non vedo l'ora di tuffarmi nelle vostre opinioni, teorie e riflessioni. È sorprendente vedere come ognuno di voi abbia una prospettiva unica e come, insieme, riusciamo a creare una visione completa e multidimensionale della trama e dei suoi protagonisti. La vostra partecipazione attiva e il vostro coinvolgimento rendono questa esperienza televisiva molto più arricchente. Leggere i vostri commenti, sia quelli che condividono le mie opinioni, sia quelli che offrono un punto di vista differente, è illuminante. Mi fa comprendere aspetti della storia che forse avevo trascurato e mi permette di vedere le cose sotto una luce nuova. La bellezza di questa community è proprio questa, la capacità di entrare in un dialogo costruttivo, di condividere, di apprendere e, soprattutto, di crescere insieme. Non si tratta solo di guardare un programma televisivo, ma di vivere una esperienza collettiva, dove ognuno apporta il proprio contributo e arricchisce la conversazione. Vi ringrazio di cuore per essere una parte così essenziale di questo viaggio. Continuate a condividere, a discutere e, soprattutto, a godervi ogni momento. E non dimenticate, ogni vostro pensiero, feedback e commento sono preziosi. Siete il cuore pulsante di questa community e non vedo l'ora di condividere con voi le prossime avventure. Buona visione a tutti! Ah, finalmente sta arrivando il weekend! Questo significa che molti di noi avranno l'opportunità di prendersi una pausa, di rilassarsi e di rigenerarsi in vista della prossima settimana. Ci meritiamo tutti un po' di tempo per staccare e recuperare energie, però, purtroppo, non tutti possono godersi questo momento di pausa. Prendete Iana, per esempio. Mentre la maggior parte di noi si accinge a trascorrere un fine settimana tranquillo, lei è lì, in prima linea, pronta ad affrontare una sfida dopo l'altra. E parlando di sfide, Iana ora deve occuparsi dei Ramona. E la cosa incredibile, non è nemmeno un medico, ma la sua determinazione e il suo senso del dovere sono tali che sta assumendosi responsabilità che vanno ben oltre il suo ruolo ufficiale. Sta facendo molto di più di quanto ci si potrebbe aspettare da lei, specialmente quando paragonata al nostro medico di turno, che sembra avere certe resistenze. Infatti, sembra che non voglia nemmeno avvicinarsi, figuriamoci toccare, la sua paziente Chimena. È stupefacente vedere come alcune persone riescano a superare se stesse, a spingersi oltre i limiti, mentre altre, pur avendo tutte le competenze e le risorse, decidano di non fare il passo in avanti. Questa settimana ci ha dato molto su cui riflettere. Grazie per averci seguiti e non vedo l'ora di condividere con voi le prossime avventure. Cari amici e seguaci del nostro canale, vi diamo un caloroso benvenuto in questa nuova puntata. Prima di immergerci nel cuore dell'argomento di oggi, vorremmo ricordarvi di mostrare il vostro supporto cliccando sul pulsante Mi piace proprio qui sotto il video. Inoltre, se vi siete imbattuti nel nostro contenuto per la prima volta o semplicemente non vi siete ancora iscritti, vi invitiamo a premere il bottone di iscrizione. Questo vi permetterà di rimanere sempre aggiornati sui nostri ultimi video e di far parte della nostra fantastica community. Detto ciò, entriamo nel vivo del nostro tema di oggi, un argomento che sappiamo essere molto caro a molti di voi, il misterioso passato di Yana. Ogni volta che parliamo di lei, i commenti si infiammano e le teorie abbondano. E non è una sorpresa. Yana è un personaggio avvolto da un velo di mistero e ogni tanto vengono svelati piccoli indizi sul suo passato che ci spingono a fare nuove ipotesi e congetture. In particolare, nell'ultimo episodio, c'è stato un dettaglio che molti potrebbero aver perso. Quando Yana ha menzionato al suo amico Abel, il nome del medico con cui ha lavorato in passato, il dottor Teodoro Palacios del Val, la sua reazione è stata piuttosto neutra. Tuttavia, la cosa che mi ha colpito è stata la reazione di Cruz quando ha sentito quel nome. Abel potrebbe non aver mai sentito parlare di lui, ma Cruz sì. E qui sorgono le domande. Perché Cruz ha questa conoscenza? Il dottor Teodoro è semplicemente un medico di spicco nel suo campo? O c'è qualcosa di più profondo e nascosto che lega lui a Cruz? Le teorie potrebbero essere infinite. Potrebbe essere che Cruz e il dottor Teodoro abbiano avuto degli incontri passati, forse in un contesto professionale o forse in circostanze personali. Oppure potrebbe anche essere che Cruz conoscesse qualche dettaglio oscuro o controverso riguardo al dottor Teodoro che potrebbe influenzare la trama nelle prossime puntate. Qualunque sia la verità, una cosa è certa. Ci sono molti segreti ancora da svelare. E noi, come sempre, saremo qui, pronti a discuterli e a cercare di mettere insieme i pezzi del puzzle. Non dimenticate di condividere le vostre teorie nei commenti e, come sempre, grazie per essere con noi in questa avventura. Ah, la complessa e sempre intrigante questione di Ramona. La sua presenza e il suo ruolo nella storia sembrano essere pieni di misteri e di enigmi ancora da svelare. L'inizio della sua introduzione nella narrazione è stato piuttosto turbolento, principalmente a causa delle circostanze in cui Jana l'ha ritrovata. Il ritardo dovuto al fatto che Jana non riusciva a ricordare dove si trovasse la casetta di Ramona, ha solo accresciuto il senso di tensione e mistero attorno a questo personaggio. Poi, la recente malattia di Ramona ha posto un ulteriore ostacolo nella ricerca della verità sul passato di Jana. Non solo ha impedito a Ramona di condividere dettagli cruciali, ma ha anche sollevato molte domande sul suo background e le sue connessioni con i protagonisti principali della storia. E le mie teorie, come molte di voi potrebbero aver intuito, ruotano attorno a due figure chiave, Curro e Dolores. La paternità di Curro e l'amante di Dolores sono due dei misteri più spinosi che ci sono stati presentati finora. E, sebbene molti abbiano ipotizzato e discusso a lungo su questi argomenti, sono sempre più convinto che Ramona potrebbe non avere tutte le risposte che speriamo. Ecco perché. Credo sinceramente che Ramona non sia a conoscenza di chi sia il padre di Curro e, allo stesso modo, dubito fortemente che sappia chi fosse l'amante di Dolores. Ma c'è un aspetto della vita di Ramona che non dobbiamo assolutamente trascurare, il suo passato come suora. Questo elemento, apparentemente secondario, potrebbe in realtà nascondere chiavi fondamentali per comprendere la sua vera storia e il suo legame con gli altri personaggi. Abbiamo ricevuto informazioni secondo le quali ci sarà una trama ambientata in un monastero nelle prossime puntate. Questa rivelazione mi ha fatto immediatamente pensare quale potrebbe essere il collegamento tra questo monastero e la storia di Ramona? Forse là risiedono segreti che nessuno di noi ha ancora considerato. Forse il monastero è il luogo dove tutto ha avuto inizio. In conclusione, mentre continuo a riflettere e a costruire le mie teorie, sono entusiasta di vedere come si svilupperà la trama e quali nuovi indizi verranno svelati. E voi cosa ne pensate? Il mistero di Ramona e la trama del monastero sono forse interconnessi in modi che ancora non possiamo immaginare? Come sempre sono ansioso di leggere le vostre opinioni e le vostre teorie. E ricordatevi, in ogni storia niente è come sembra. Ramona è indubbiamente un personaggio avvolto da un velo di mistero e incertezza. Mentre le sue circostanze attuali la impediscono di rivelare tutti i dettagli che conosce, non dobbiamo sottostimare il valore delle piccole informazioni. Spesso è proprio un piccolo dettaglio o una minima rivelazione che può aprire una porta a nuove scoperte e intuizioni. E in una storia così intricata come questa, ogni singolo indizio ha il potenziale di gettare luce su questioni precedentemente inspiegabili. Considerando la tenacia e la determinazione di Jana, è probabile che qualsiasi frammento di informazione che Ramona possa fornire sarà utilizzato al meglio. Jana ha dimostrato in più occasioni di essere una investigatrice perspicace, capace di collegare punti apparentemente slegati tra loro e di trarre conclusioni sorprendentemente accurate. Quindi, anche se le informazioni fornite da Ramona potrebbero sembrare trascurabili o irrilevanti a prima vista, potrebbero benissimo essere la chiave per aprire una nuova direzione nelle indagini di Jana. Ma c'è un altro elemento che non possiamo dimenticare. Fernando. Questo personaggio, pur essendo chiaramente parte integrante della narrazione, non ha ancora avuto l'opportunità di interagire direttamente con Jana. Questo fatto solleva una miriade di domande. Quali segreti condivide Fernando? Come influenzerà la trama una volta che il suo cammino si incrocerà con quello di Jana? E soprattutto, quale ruolo giocherà nella risoluzione degli enigmi attorno a Ramona e alle indagini di Jana? Il fatto che ci siano ancora trame inesplorate legate a Fernando rende la storia ancora più avvincente. L'interazione tra Jana e Fernando potrebbe non solo rivelare nuovi dettagli sulla vita e sul passato di Ramona, ma potrebbe anche portare a sconvolgimenti e rivelazioni inaspettate. La loro dinamica, le informazioni che condivideranno e le scelte che faranno insieme potrebbero essere determinanti per la direzione che prenderà la storia nei prossimi capitoli. In sintesi, mentre siamo pieni di domande e aspettative, una cosa è certa, la trama è lontana dall'essere risolta e ci attendono molte sorprese. Ogni nuovo episodio, ogni nuovo incontro e ogni piccola rivelazione ci avvicinano a comprendere la verità nascosta dietro questi intricati personaggi e le loro storie intrecciate. E come sempre, siamo ansiosi di vedere come si svilupperanno gli eventi. Comunque, per oggi è tutto. Come sempre, se vi è piaciuto il video, vi prego di mettere like e iscrivervi. Il mio sogno è raggiungere i 100.000 iscritti e ottenere il riconoscimento di YouTube. Significherebbe molto per me, quindi apprezzerei molto il vostro aiuto.